E come fai a intendere te con un musulman? Già con uno che rifiuta il salsiccio sul fuoco, non so manco gli attirati. Dice che è la religione, ma che è? La religione, stanno tutti a pregare tre volte al giorno, aggubiti raso terra, parcano perso le lenti a contatto. Io al prete gli fasce da manco l'acqua santa, con la scusa glume dove da noi è l'artrosi. Questi fanno il ramadan, ne fanno, hai capito? Tanno a digiuno, figurate io per la vigilia mangio il migliaccio. Ma di che vuoi giù di attirare con questi qui? Della scoliosi dei cammelli? Dice ma è importante perché conosci gente di altri paesi. Io conosco già il mio cognato di Cicciano e mi avanza. Hai capito? Io sono venuto qui perché la gente ti avvicina, perché l'uomo fa schifo, perché senta di grattarti i quadrini in qualsiasi istante. Al telefono, nella macchina, quando sei al ristorante. Allora io ho fatto bene un decalogo per non si far rinculare quando non è fuori. Promozioni telefoniche, quando ti telefonano, pronto? Ha due minuti per parlare con noi? Certamente! A ogni domanda ne rispondo con me lo sciucci. Alla seconda domanda già hanno smesso. Quando arrivano col banchino, li vuole firmare per la droga? Dico guarda, aspetta, un no tempo, c'è andà via, mi sta secca due campi di marijuana, c'è da annaffiarli. Allora no! Quando ti arrivano con quel cazzo di mazzo di rose al ristorante, dai, compra una rosa per il tuo amore, per la tua amorosa. Dico guarda, ne importa, ne infoma ne. Capito? Manca il semaforo, sei libero. T'arrivo lì con quella foto, finta, eh, poi, se vedi. Dai qualcosa da mangiare che mi vedi il mio bambino? Io gli tiro fuori la foto di Fassino, lo vedi questo? È il mio figliolo. De solito mi danno 4-5 euro a me per dargli da mangiare. Niente, fulti, se no c'è in culo, no! L'altra mattina ero a casa, ma arriva quei di Geova. Boni quei di Geova. Drin! Buongiorno, ha due minuti per parlare con Dio? Dico guardi, mi si è rotto lo scarico della lavatrice, è tutta la mattina che ci chiacchia. Ma mi sa che ci si intende poco. Arrivederci. Hai capito te? Grazie. Grazie. Grazie.